Ciao, sono Stash e il mio personaggio è Branch. Ciao, sono Sergio Silvestre, I am Mini Diamante. Ciao, sono Di e presto la voce alla Regina Balbo. Cool, figo. Irriverente. Innamorato. Stash è un grande amico, un bravo artista e una bella persona. Grande. Personaggio assurdo. Bellissima. Sergio è un mio carissimo amico, abbiamo condiviso tantissime storie ed è una montagna di dolcezza. Un amicone, un carnalone. No glitter. Tendenzialmente no glitter ma dipende dalla situazione. Maggita nera. No. Sì. 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 Devo dire rock. Pop. Tutte e due. Noia. Cassa. Cassa. Cuffie. Hamburger. 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 Sound. 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 Tiny diamond. Tiny diamond. Tiny diamond. Troll World Tour. Trolls World Tour. Trolls World Tour. Dovete vedere Trolls World Tour. È pazzesco. Trolls World Tour. Trolls World Tour. Grazie a tutti.